Tirando 8 su 20 da 3 in questa parola, il 40% direi buono, 16 su 29 da 2, il 55% Dariano tira il 44 da 3 quindi meglio di Vigevano da questo punto di vista però tira il 38 da 2 che è pesante, la situazione da rimbalzi è di 30-23 per Vigevano e questa non è una novità in casa Vigevano Guidi esce dai blocchi, step back, giocata pazzesca dell'esterno 96 e ha una tecnica e un'eleganza pazzesca in campo da quel punto di vista, Grugnetti va in post basso da Ferri che prova a spingere contro Alessandro Guidi l'aiuto di Giacomo Vantini non è una grande idea perché lasci